La regia mi dice di no, dobbiamo andare avanti, andiamo sul campo numero 1, il punteggio è 8 a 6 e quindi vi proponiamo anche il finale di questa semifinale, scusate sempre il gioco di parole ma sono frasi che continuamente ci vengono in quanto le partite che si stanno giocando sono due semifinali, una vinta da Cesini e Manuelli su Paolo Luraghi e Luca Viscusi in questa tornata Ancona 2000 sembra che abbia raccolto 3 punti, adesso vi aggiorniamo subito, vediamo il punteggio, in effetti sono 3 punti, il punteggio era di 8 a 6, ora è di 9 a 8, conducono i giocatori in maglia giallo-nera, sarebbe una cosa eccezionale vedere queste due formazione di Ancona disputarsi la finale ma hanno di fronte i signori Savoretti e Di Nicola, il che non è facile, sembrava tutto facile per la formazione aquilana che conduceva 6 a 0 e poi, e poi, e poi ora sta 9 a 8 per Ancona 2000, vediamo un po' Savoretti colpito il pallino da Savoretti ma se ne va fuori e tiro da rifare per la presenza di Ammur Torretti e Parigi. Sincorso la fine di Ammur Torretti. Mamma di Ammur Torretti a Rai. giocata non è male la boccia sui 40 cm probabilmente dovrà essere tirata Savoretti al tiro di volo buona la bocciata ma nulla la boccia di Savoretti che è andata nella rete ottima anche la boccia di Giuliano Di Nicola in questo caso se dovesse essere il bersaglio di Raffa potrebbero dichiarare il pallino ma lo dovrebbero muovere il che non è facile ma di volo non ci sono problemi e in effetti è andata a vedere proprio Andrea quanta distanza c'era tra pallino e boccia e ha deciso di dichiarare la boccia del punto al volo ancora una boccia fuori anche se la bocciata è valida i campi sono molto duri e quindi facile nella giocata di volo che possano saltare fuori specialmente quando il pallino è collocato in prossimità delle sponde laterali buona bella anche questa cerca l'accosto sembra di Nicola dal gesto vorrebbe tirare la boccia lungo la sponda non ci sono problemi ma la boccia è molto buona e bersaglio ma comunque non ne approfitta per il tiro sul pallino va nel va al tiro di volo Savoretti bocciata valida e prende il punto ora tocca Cappellacci ha la boccia di vantaggio anzi direi di no Cappellacci ha tirato prima quindi ha una boccia sola la boccia di vantaggio e per Giuliano Di Nicola punteggio 9-8 in favore dei gialli dell'Ancona 2000 gialle anche le bocce vediamo sicuramente Di Nicola vedremo sicuramente Di Nicola al tiro al volo bocciata è valida ma non riesce a prendere il punto ha toccato di poco la boccia del punto rimane il punto per i gialli dell'Ancona 2000 che si portano a quota 10 a 8 partita iniziata decisamente in salita per la formazione anconetana ripeto perdevano 6 a 0 e tutto lasciava presagire una facile vittoria dei più quotati giocatori dell'Aquila ma nelle bocce come in tanti altri sport alle volte il fattore del pronostico può diventare anche un peso per chi lo deve sopportare o subire questa boccia non è tanto buona ma comunque è sempre fastidiosa tiro di volo per Savoretti buona la bocciata ma non sicuramente non è contento Mirko rimane il punto buona questa boccia Cappellacci sicuramente andrà al tiro eccolo qua Federico Padrignano addirittura se ne va nell'altro campo ottima colpita non solo colpita ma gettata fuori campo ma non è in questa giocata fortunata rimane il punto la sua boccia la boccia di Cappellacci è andata addirittura ad urtare la boccia a fondo campo alzandola e quindi creando il punto per la formazione dell'Aquila è curioso mi viene in mente questi quattro giocatori si incontreranno nella seconda giornata del campionato di serie A in quanto Ancona 2000 farà visita alla Virtus L'Aquila quindi molto presto si rincontreranno in campionato ottimo tiro di volo per Mirko Savoretti ha gettato letteralmente fuori campo la boccia di Patregnani si gioca boccia su boccia l'arbitro vuole la fettuccia un punto sicuro probabilmente per la Virtus L'Aquila dovranno misurare la boccia sulla destra gialla con la terza boccia sulla sinistra dei giocatori dell'Aquila due punti per l'Aquila a terra una boccia per Cappellacci che la gioca lontana dal pallino e quindi dando la possibilità di raccogliere solo un punto ai giocatori dell'Aquila che si portano a quota 9 partita molto interessante 9 l'Aquila 10 Ancona 2000 vi ricordo che sono già in finale i giocatori dell'Ancona 2000 Gianluca Manuelli e Marco Cesini Giuliano Di Nicola Buona però leggermente sul lungo quindi anche prendibile ma non ci pensa su Cappellacci e va subito al tiro in quanto anche la boccia è completamente libera e quindi giusto tirarla subito sembra molto ben indirizzata questa boccia di Federico Patregnani veramente ottima e questa è per Savoretti che si appresta al tiro aia esce un foro a Mirko Savoretti in un momento determinante dell'incontro 9 per Savoretti di Nicola 10 per Cappellacci Patregnani ci prova ancora questa volta colpisce e carica il pallino che se ne va a fondo campo ma sembra il punto rimane dice l'arbitro il punto rimane ad Ancona 2000 vedete le disposizioni delle bocce pallino al centro sembra addirittura che l'arbitro indichi che i punti siano due e si sembra aver interpretato anche che Mirko avrebbe voluto la misurazione e l'arbitro abbia detto sono due punti confermando adesso questa è la nostra interpretazione in pratica se effettivamente saranno confermati due punti a terra sono due punti che darebbero la possibilità alla formazione di Ancona di passare in finale sempre che Giuliano Di Nicola ha una boccia in mano sta tornando verso giocarsela ma che comunque vedete anche Cappellacci ha un'altra boccia da giocare tenta la giocata su una sua boccia allarga le braccia vediamo un po' se allora era un punto solo altrimenti la partita era già finita quindi punto a terra e due bocce ancora da giocare per la formazione dell'Ancona 2000 grossa opportunità per i giocatori dell'Ancona 2000 per disputarsi la finale tra fratelli comunque è tutta da giocare ancora i punti sono strettissimi a fondo campo nonostante punto a terra e due bocce in mano tenta l'accosto Patrignani non c'è nient'altro da fare sembra corta questa boccia giocata da Patrignani probabilmente la maggior parte del pubblico dirà mai fare corto ma non è così facile ora ci prova Capellacci anche questa sembra corta forse no forse no anzi sembra buona è buonissima vincono e solo in finale i giocatori dell'Ancona 2000 Patrignani e Cappellacci che vincono su una coppia dei grandi numeri diciamo Mirko Savoretti e Giuliano Di Nicola che ieri hanno vinto la parata dei campioni e quindi tra poco finalissima tra due formazioni dell'Ancona 2000 noi ci fermiamo per qualche minuto grazie 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 a tutti